Scusate se mi permetto. Cerchio e seno attraverso NT 29 marzo 2023 a cura di Vubbi. Piero. Quell'entità molto evoluta sta ancora lì nella città, al confine tra il Tigri e le Ofrate? Alexander. Certo. Piero. Perché qualcuno dice che sta qui in Italia? Alexander. No, assolutamente no. L'Italia è un piccolo stivale che va bene per chi vuole dare i calci. Scusate se mi permetto geograficamente.